Shock e morto ora l'icona dell'arte. Svelata la sensualità delle sue opere. Prima di iniziare questa triste storia, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche facendo clic sulla campanella. Ciao a tutti gli appassionati di Amica Gossip. Sono davvero felice di vedervi ancora una volta qui nel nostro angolo di chiacchiere su notizie e gossip. E ora, senza ulteriori indugi, lasciatevi coinvolgere da questo triste racconto. Oggi condividiamo una notizia commuovente. Il celebre artista colombiano Fernando Botero è deceduto a 91 anni. Il suo lavoro unico e iconico ha influenzato l'arte contemporanea in tutto il mondo. Botero ha spiegato che il volume era la chiave per esprimere la sensualità delle forme. La sua carriera è stata caratterizzata da una costante ricerca artistica e innovazione. creando figure monumentali in spazi apparentemente troppo piccoli. Nonostante la fama internazionale, è sempre rimasto legato alla sua Colombia Natale. Le sue opere sono presenti in tutto il mondo, sia nei musei che per le strade di molte città. Botero era noto per le sue opere dalle forme voluminose e sensuali, ma preferiva chiamarle voluminose piuttosto che grasse. Ma perché Botero ha scelto di rappresentare soggetti così voluminosi? L'artista stesso ha spiegato che per lui, il volume era la chiave per esprimere la sensualità e la plasticità delle forme. Era convinto che il volume fosse l'elemento fondante e sensuale nella pittura, e questa concezione lo ha spinto a creare opere uniche nel loro genere. Inoltre, Botero ha sempre preferito il termine «voluminosità» rispetto a «grassezza» quando si trattava delle sue opere, sottolineando che non dipingeva donne grasse, ma voleva rappresentare il volume e la sensualità della forma. E poi, avete notato che le sue opere sia maschili che femminili hanno i visi molto somiglianti a quello dell'autore stesso? Soprattutto gli occhi, fateci caso e scriveteci la vostra opinione nei commenti. La scomparsa di Botero è una perdita per il mondo dell'arte, ma le sue opere rimarranno un'ispirazione duratura. Grazie per averci seguito oggi su Amica Gossip. Alla prossima!